Nel mese di luglio la domanda di energia elettrica in Italia è stata di 32 miliardi di kilowatt l'ora, un valore in crescita del 13,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo rileva Aterna, precisando che il dato è in assoluto il più rilevante di sempre per il sistema elettrico italiano, sia in termini assoluti, sia in termini di incremento percentuale. L'elevata crescita del fabbisogno di energia elettrica, spiega, è dovuta alle eccezionali temperature atmosferiche registrate. I 32 miliardi di kilowattora richiesti nel mese di luglio, spiega Aterna, sono distribuiti per il 45,7% al nord, per il 30,3% al centro e per il 24% al sud.